dice fai qualcosa sua fotografia che pure quella è n'arte a voglia pure quella si è fatta bene n'arte è quello che pensano tutti sti pischelli che se comprano anzi scusa se fanno comprà una macchinetta e clic e clic se fanno flickere o instagram e scrivono sul profilo facebook fotografo esse pensano d'essere artisti o peggio ancora fanno e foto coi per stamatic con la cornicetta sbavata a finta sovraesposizione o effetto polaroid che i colori arancioni esse sentono tutti picasso ma picasso so non so nisuno cioè per carità qualcuno so pure bravi ma non basta averci a macchinetta per se fotografi e non basta suonare due tracce per se dj e non basta strimpellare la chitarra per se musicisti e non basta averci in blog per se scrittori detto ciò man ray faceva tra le altre cose dei fotografie qui c'è sta una dei modelli sue preferite e no non modelle che faceva la modella di pochette mosse ma era una cantante che posò per lui e qua gli mette vicino una maschera africana che un pochetto ricorda la faccia di lei e quindi crea un parallelo ma pure in contrasto che una è bianca bianca l'altra nera nera e una giù una su una vera l'altra finta e lei c'ha gli occhi chiusi quasi che dorme o forse sogna o forse all'artista gli piace più così perché ne è quasi più una persona ma la maschera pure lei che infatti nell'arte è sempre una persona ritratta e come si diventasse un oggetto e forse può pure di che c'è sta quasi una vicinanza profonda tra la donna e il mondo primitivo servaggio che questa per me è un po' una cazzata che spesso gli artisti uomini ce l'hanno sta cosa che invece pare che prima scena dall'arbre a parlare e vorvece siamo state proprio noi che se n'era per noi l'omini stavano ancora sui liane a mangiare se i banane ma l'omini gli piace pensare che noi siamo più vicini a natura così possono dire ecco oggi c'hai il ciclo e non te si può parlare no non è che c'ho il ciclo è che stai a dire delle cazzate oppure ecco donna al volante pericolo costante e poi fanno incidenti oppure a donna non può fare manager perché poi va lì i ragazzini e come va ma mi sta che sto uscita un po' fuori te ma beh scusa eh è che oggi c'ho il ciclo